Più di 130 incendi scatenati da fulmini stanno divampando nel Canada occidentale, colpito nei giorni scorsi da un'ondata di caldo senza precedenti. Il governo federale ha annunciato che invierà alcuni aerei militari della British Columbia, la provincia più colpita dei roghi. Stando ai dati diffusi dalla Wild Fire Service della British Columbia, sono in questa provincia gli incendi sono 136, dopo che sono stati registrati ben 12.000 fulmini. Gran parte di questi fulmini hanno colpito vicino ai centri abitati, ha detto il capo delle operazioni provinciali Cliff Chapman, citato dalla BBC. Tre giorni fa un altro incendio ha completamente distrutto il villaggio di Linton, la località a 260 km a nord di Vancouver, dove si era appena registrato il picco massimo di calore nella storia del Canada, ben 49,6 gradi centigradi. I 250 abitanti sono stati immediatamente evacuati e non hanno avuto neanche il tempo di poter prendere con le loro se. Altre centinaia di residenti della provincia sono già stati avvertiti dal rischio di dover lasciare le loro abitazioni nelle prossime ore in caso di nuovi incendi che si potessero propagare.